buongiorno buongiorno e ben ritrovati e benvenuti a caffè mercati io sono vincenzo penna di investire.biz e ovviamente buon caffè a tutti si inizia finalmente la giornata e la iniziamo come sempre sui mercati finanziari oggi parliamo di europa non del dax non dell'eurodollaro ma di un'azienda nello specifico che potrebbe effettivamente giovare da quello che è successo ieri se non siete aggiornati sui fatti adesso ci arriviamo andiamo a vedere andiamo a vedere un po che cosa è successo ovviamente vi ho detto vi parlerò di europa vi parlerò della commissione europea che ha votato ieri ha votato ovviamente ursula von der line per proseguire il proprio mandato della commissione e prima della votazione il discorso della von der line secondo me è stato molto molto significativo anche per noi investitori ma adesso ci arriviamo non vi preoccupate restate fino alla fine che andiamo a vedere esattamente dove andare a investire grazie appunto all'unione europea che forse qualcosina si sta muovendo eh prima di farlo però piccolo recap di quello che è successo ieri vi ricordo che oggi la borsa americana è chiusa thanksgiving day quindi giorno del ringraziamento oggi è metà giornata di domani quindi buon tacchino a tutti se c'è qualcuno che festeggia col col tacchino ieri però quindi hanno anticipato un po tutti i voti i dati macroeconomici infatti sono uscite le buste di i sussidi di disoccupazione le richieste di sussidi di disoccupazione in america che restano più o meno stabili stiamo parlando sempre del 200.000 215.000 220.000 quindi non sono preoccupanti lì per lì il dato in sé è preoccupante o meglio ancora inizia ad essere preoccupante le richieste di disoccupazione continua che cosa significa che è vero che settimana dopo settimana chi fa richiesta sono sempre quei circa 200.000 unità unità più unità meno la cosa problematica che inizia a essere problematica quindi metto le mani avanti e che queste richieste di disoccupazione iniziano ad accumularsi ok lo vedete dal grafico qui sul trading economics addirittura da settembre 2024 dalla fine di settembre 2024 abbiamo avuto una risalita abbiamo avuto una risalita e se andiamo a vedere gli ultimi tre anni anzi gli ultimi cinque forse si vede no gli ultimi cinque non si vede nulla gli ultimi tre anni siamo ritornati al picco massimo del 2022 come richieste di disoccupazione continua attualmente ci sono un milione e ottocento quaranta anzi novecento un milione e novecento mila americani che stanno percependo il sussidio di disoccupazione quindi significa che non sono riusciti a trovare lavoro ok questo è il meccanismo ed è questo il discorso come potete vedere dal 2023 la curva è ampiamente rialzista quindi il mercato potrebbe iniziare a focalizzarsi su questo sul mercato del lavoro tra l'altro lo stava già facendo da un bel po finché poi che trump con le elezioni ha tolto un po la narrativa e la messa da parte però vabbè questo è un altro discorso altro dato importante il pil che è stato confermato ma altro dato ancora più importante è il pce il price consumer expenditure l'inflazione sui prezzi al consumo quindi non sui prezzi alla non diciamo non sull'inflazione classica ma sui prezzi al consumo ok e questo pensate un po che è in risalita dal 2,7 per cento del mese scorso al 2,8 per cento e il pce insieme all'inflazione e insieme al ppi che sarebbe l'inflazione alla produzione pensate un po che sono in aumento tutti e tre per la prima volta da oltre due anni quindi la fed secondo me ha un bel grattacapo da diciamo da doverci mettere una pezza alla prossima riunione della federa riserva quindi la prossima riunione effettivamente è una bella incognita non sappiamo e il mercato non sta ancora scontando meglio sta scontando per il momento il 50 per cento tra una pausa e un taglio dei tassi di interesse vediamo come si metteranno le cose perché il mercato di occupazione da una parte sta effettivamente andandosi a raffreddare dall'altra parte invece ci sono questi dati sull'inflazione che non fanno ben sperare per il futuro ma lo sapevamo con trump avevamo già detto che l'inflazione poteva effettivamente risalire infatti così sta avvenendo tra l'altro non si è neanche ancora insidiato quindi è l'effetto naturale del rimbalzo dell'inflazione quindi non oso immaginare che cosa potrà accadere tra febbraio e marzo del prossimo anno però vabbè questo è un altro discorso allora parliamo della commissione europea ieri appunto c'è stata la votazione del nuovo presidente della commissione europea Ursula von der Leyen ha parlato prima della votazione ha fatto il suo discorso appunto per gli elettori e ha detto delle cose molto importanti ha detto tre cose molto importanti divise bene per tre pilastri che adesso vi vado ad elencare innanzitutto secondo me la cosa più importante è che vi ricordate quando abbiamo parlato del discorso di Mario Draghi di quando ha detto che l'Europa era al palo l'Europa potrebbe avere problemi di crescita economica ci servono 800 miliardi di stimoli fiscali di sovvenzioni per far ripartire l'economia eccetera vi ricordate quel discorso? Ursula von der Leyen l'ha confermato ha detto che Mario Draghi ha ragione abbiamo bisogno di fare qualcosa in Europa e che addirittura sarà affidato a Mario Draghi sarà affidato il compito di tracciare la strada da seguire quindi Mario Draghi a carta bianca tra l'altro vabbè ha già stilato il report quindi l'Europa ha già il report pronto da dover soltanto attuare e entro 100 giorni dall'inizio del mandato che dovrebbe essere inizio 2025 adesso le date precise non le so si inizierà a fare qualcosa quindi la prima metà del 2025 sarà utilizzata proprio per stilare il piano nero su bianco e poi dalla seconda metà del 2025 dovremmo partire con le nuove riforme della Commissione Europea quali sono queste riforme? si basano su tre pilastri fondamentali il primo è colmare il divario nell'innovazione lo sappiamo tutti ci sono delle barriere tra Europa e Stati Uniti o meglio nella stessa Europa ci sono delle barriere perché l'Europa, il problema dell'Europa è che ragiona come 27 diverse barriere nazionali quindi sì, siamo uniti dal punto di vista economico ma alla fine non così tanto perché ci sono le regolamentazioni paese per paese sono diverse appunto da un paese all'altro e quindi si punterà ad un'Europa diciamo ancora più unita anche sul fronte proprio della legislazione vediamo poi se sarà fattibile oppure no però questi sono comunque dei buoni propositi secondo pilastro Green Deal confermato ma aiuti alle imprese che cosa significa? che il Green Deal, il famoso Net Zero 2030 poi è spostato al 2035 poi forse sarà spostato al 2050, non lo so però comunque non è messo da parte quindi ci tiene a precisare che quella transizione energetica non è messa da parte hanno capito che c'è un problema perché non possono permettersi di fermare le sonvenzioni alle aziende energetiche e utility proprio per lo sviluppo in questo campo, in questo settore quindi con il fotovoltaico, con l'eolico chi più ne emetta quindi per mettere da parte l'utilizzo di combustibili fossili l'Europa l'ha capito probabilmente un po' troppo tardi e tra questi famosi 100 giorni inizieranno di nuovo col piano di stimolo alle aziende che operano in questo settore quindi già primo input per noi investitori aziende di energy e utility probabilmente in Europa potrebbero effettivamente riprendersi con forza però per il momento lo mettiamo da parte perché non è quello il punto di oggi in arrivo, sempre nel secondo punto perché ovviamente va a braccetto in arrivo un tavolo sull'auto nel senso che, l'abbiamo visto che cosa sta succedendo soprattutto in Germania ma anche la stessa Stellantis tra Italia e Francia l'automotive in Europa sta collassando la Volkswagen ha chiuso tre stabilimenti storici che è forse la più grande crisi in questo settore da quando esiste l'automotive in Europa Volkswagen sta avendo problemi BMW sta avendo problemi Mercedes sta avendo problemi Porsche sta avendo problemi Stellantis ovviamente sappiamo i problemi di Stellantis Nissan addirittura leggevo che probabilmente ha circa 12 mesi di 12-14 mesi di vita prima di fallire come azienda quindi queste sono soltanto rumors che dovranno essere confermati però la situazione ovviamente non è delle migliori non è delle migliori l'Europa l'ha capito sempre ovviamente con tanto tanto ritardo e faranno qualcosa si metteranno al tavolino si riuniranno con i CEO di tutte le aziende per trovare un accordo anche su questo settore quindi mi raccomando che anche questo per noi investitori che possiamo iniziare già a vedere qualcosina nell'automotive quindi per rientrare nell'automotive potrebbe essere interessante le aziende che vi ho citato prima secondo me è doveroso metterle in watch list per un orizzonte temporale che però sarà veramente molto molto ampio perché se questa roba qui inizia a metà 2025 ce ne vuole Stellantis magari per riprendersi Porsche per riprendersi eccetera eccetera quindi iniziamo iniziamo a valutare qualcosa però comunque ancora una volta non è il punto del discorso perché poi secondo me la cosa più importante è il terzo pilastro che è anche quello un po' più triste se vogliamo però è quello più importante rafforzare la sicurezza dell'UE la von der Leyen ha detto non è la prima ovviamente che lo menziona anche parecchi politici italiani lo stanno dicendo sempre più spesso ovviamente visto che ci marciano anche un po' su su questa roba qui fanno il paragone con la Russia dicono che la Russia destina il 9% del suo prodotto interno nord per il settore della difesa quando invece l'Europa la media perché ci sono alcuni paesi che fanno molto molto meno come ad esempio l'Italia destinano all'1,9% quindi quale sarà il nuovo target dell'Europa cercare di andare a schiacciare il gap quindi portare questo 2% del PIL per la difesa a circa questo 9% della Russia non credo che si arriva al 9% sarebbe una cifra troppo troppo alta però comunque a metà strada probabilmente questo 5-4% del PIL in difesa probabilmente lo raggiungeremo in qualche annetto e quindi che cosa ne viene qual è la conseguenza di questa è che gli investimenti nel settore della difesa per le aziende europee ovviamente crescerà e tutti quanti ovviamente starete pensando a un'unica azienda che è Leonardo infatti stamattina voglio parlarvi proprio di Leonardo proprio sulla scia delle nuove sovvenzioni che arriveranno ovviamente alla metà del 2025 perché capite bene che se Leonardo ha fatto quello che ha fatto con soltanto il 2% del PIL totale del diciamo dato totalmente al settore della difesa e quindi lui diciamo Leonardo ne prende una parte pensate un po' a cosa potrebbe fare con il 4, il 5, il 6% del PIL di sonvenzioni per appunto la difesa quindi giusto per darvi due numeri sono clamorosi eh sono clamorosi Leonardo è un'azienda sì è cresciuta tanto ma comunque è ancora un'aziendina cioè capitalizza 14, 15 miliardi la parte europea e capitalizza 9 miliardi la parte americana quindi stiamo parlando di un'azienda che tutto sommato non arriva neanche ai 30 miliardi di capitalizzazione di mercato quindi non è che è un'azienda così grossa quindi a tutto a tutte le carte regola soprattutto se questa roba qui dovesse effettivamente prendere prendere via di fare molto bene molto molto bene in futuro purtroppo ovviamente ci aggiungo sempre purtroppo perché se aumentano le sovvenzioni in difesa significa che c'è qualche problema di in quest'ambito ecco quindi ovviamente noi non vorremmo mai una roba del G però purtroppo gli avvenimenti degli ultimi anni fanno pensare a questo vi dicevo quindi Leonardo parliamo di Leonardo tra l'altro su Thrive la trovate quindi la trovate come DRS perché c'è la controparte americana presente su Thrive che paradossalmente a causa dei dazi di Trump la parte americana forse potrebbe andare leggermente meglio proprio perché non è costretta a pagare i dazi per l'import in America perché appunto già produce là e già effettivamente vende vende in quel in quel in quel paese che cosa fa Leonardo beh se non se non lo sapeste Leonardo si occupa di tutto ciò che concerne la difesa però lato tecnologico ok quindi fa prodotti difensivi lato tecnologico sia per quanto riguarda le truppe di terra sia per quanto riguarda le truppe di aria sia per quanto riguarda le truppe dello spazio e ovviamente del mare quindi si occupa totalmente di tutto a 360 gradi della componente cyber security della componente tecnologica e quindi tutte le applicazioni diciamo commerciali in questo settore ok diciamo informatica tecnologia cyber security nel settore della difesa e fa tutto fa qualsiasi cosa dall'elettronica per i soldati alle che ne so appunto cyber security quindi per la sicurezza informatica fa veramente di tutto è un'azienda che è cresciuta tanto tantissimo in borsa se andiamo a vedere la parte europea è cresciuta vi dico subito nell'ultimo anno del 76% negli ultimi tre anni del 300 13% negli ultimi 5 poco meno perché ovviamente partivamo dal livello più alto però negli ultimi tre anni ha avuto una crescita del 300% in borsa i fondamentali invece non è che sono cresciuti tantissimo a dire la verità dal 2020 sì siamo cresciuti ma siamo passati dai 13 miliardi di fatturato al 15 miliardi con un utile con un margine netto che si attesta dove è dove è che si attesta intorno all'8% siamo passati dal 4 all'8% in due anni quindi non è nulla di eccezionale l'8% di profit margin è ampiamente migliorabile soprattutto se dovesse arrivare le sonvenzioni di cui l'Europa sta parlando quindi Leonardo sì è sui massimi è sui massimi storici ma potrebbe avere tanta tanta strada ancora da fare l'unico neo è che il forecaster ovviamente la valuta come sopravvalutata come ovviamente deve essere perché vi dicevo da una parte il prezzo è salito da un'altra invece gli utili e il fatturato non sono saliti quindi c'è effettivamente un mismatch che non va tanto ad accordo quindi il forecaster la vedete sopravvalutata ci sta però ovviamente in questa sopravvalutazione non si tiene conto dell'aumento della spesa e degli stimoli fiscali che poi ci potrebbero essere dalla parte della comunità eh scusa della commissione europea quindi va bene vedere il fair value però stiamo ragionando in termini totalmente diversi su leonardo ok questo è la vabbè questo vi stavo facendo la stavo facendo vedere la parte italiana quindi con sedia a roma la parte americana altman z score 3 quindi positivo pietroschi 6 positivo benesham score quindi non trucca e bilanci meno 2,55 super positivo altra piccola nota di demerito infatti lo dice anche qui che negli ultimi due annetti hanno rilasciato un po' di shares in più hanno rilasciato un po' di azioni in più hanno aumentato leggermente il capitale perché appunto avevano bisogno di sovvenzioni sovvenzioni che forse non ne avranno più bisogno proprio per la questione che abbiamo detto prima sulla commissione europea andiamo ora a vedere dal punto di vista grafico e appunto vi dico che la trovate su drive sotto drs vi ricordo che questa è la parte americana ok questa il drs è la parte americana quindi l'azienda che è quotata al nasdaq in america mentre ovviamente la parte europea su drive non l'abbiamo ancora però ci stiamo lavorando però è la stessa identica cosa perché comunque se sale una è ovvio che salga anche l'altra con orizzonti temporali diverse con stime diverse però più o meno alla fine l'azienda è sempre la stessa vi dicevo questo è il grafico le aree di riferimento più importanti sono ovviamente è questo livello qua quindi l'area dei 37 dollari per azione attualmente siamo a 34 quindi siamo abbastanza lontani dal ritornare sui massimi storici siamo a circa il 6% quindi abbiamo anche spazio per il breve periodo per chi volesse operare per il breve periodo invece mi andrei a mettere su un time frame daily eccoci qua perché si va bene magari valutare un ingresso adesso ma facciamo attenzione perché l'area più importante secondo me è questa qui l'area di 30 31 dollari per azione se dovessimo arrivare qua vi dico la verità sarebbe una bella occasione una bella occasione noi penso che rientreremo sul titolo su quest'area con l'orizzonte temporale però fate attenzione perché l'orizzonte temporale ovviamente stiamo parlando sempre di 2025 in oltrato quindi dobbiamo ragionare per accumulazione di veramente lungo lungo periodo quindi mi raccomando non si entra adesso per uscire domani si entra oggi per uscire tra due anni tre anni questo è l'orizzonte temporale giusto per mettere le cose in chiaro quindi questo è il livello più importante 31 dollari livello intermedio possiamo andarcelo a prendere con l'ultimo supporto in area 33 dollari questi sono i tre livelli questo è il livello di target il livello di primo ingresso 33 dollari secondo ingresso 31 dollari non penso che ci siano altri ingressi dal punto di vista tecnico ovviamente ci sono perché l'altra area più importante è magari questa dei 27-28 però la vedo veramente complicata raggiungere questi livelli dopo soprattutto quello che è stato detto ieri siamo parlando di un meno 20% è veramente complicato che ci possiamo arrivare però comunque per dovere di cronaca per completezza questi sono tutti i livelli operativi su Leonardo quindi questa è l'analisi di oggi mi raccomando fate riferimento anche all'articolo che uscirà a breve che scriverò io stesso quindi entro le 11 o al massimo le 12 dovrebbe uscire l'articolo su investire.biz ragazzi prima di lasciarvi non scappate cosa molto importante vi ricordo che oggi è giovedì la nostra promozione scade il 30 quindi scade dopo domani e quindi praticamente siete agli sgoccioli quindi o acquistate un corso in questi ultimi due giorni oppure perdete lo sconto Black Friday lo trovate direttamente sul nostro sito trovate il link ovviamente qui sotto e trovate il banner qui vedete meno 40% di sconto su tutti i corsi e i servizi anche i servizi infatti c'è anche il report altcoin per quanto riguarda le cripto se volete capirci un po' di più sulle cripto c'è il corso sulle cripto e sugli NFT che poi tra l'altro anche lì ci sarebbe da fare un grande grande discorso e trovate tutto nel nostro sito dei corsi vedete questi sono tutti i nostri corsi vi basterà semplicemente cliccare su iscriviti vi porterà alla pagina per acquistare il corso ci mettete il coupon BCF che vi darà il diritto del meno 40% di sconto e adesso facciamo un esempio pratico il corso Crypto e NFT from zero to hero cliccate sul corso vi porterà alla pagina del corso cliccate su acquista di listino è 4,99 ma noi ovviamente abbiamo detto che acquisteremo il corso con il codice sconto BCF avendo uno sconto di ben 200 euro quindi pagherete il corso solo 2,99 un bel corso sulle cripto dalla A alla Z quindi se non sapete effettivamente di cosa si tratta potete comprare questo corso qua e farvi una cultura iniziare a capire come si investe iniziare a capire che cosa sono le cripto che cosa sono gli NFT che cosa sono addirittura che cosa è la DeFi la finanza decentralizzata quindi veramente sapete tutto sulle cripto dalla A alla Z grazie a questo corso qua e nulla poi vabbè se non lo riuscite a trovare ci contattate come sempre in chat trovate tutto qui sotto in basso a destra e nient'altro ragazzi nient'altro io vi ringrazio per essere stati qui vi metto ovviamente la camera eccolo qua ci vediamo domani mattina sempre qui 9 e un quarto e a Caffè Mercati ovviamente buona giornata e buon trading a tutti ciao grazie a tutti Grazie a tutti.